Il team ha appena finito di preparare la moto ed il pilota è pronto a scendere in pista. Il team ha appena finito di preparare la moto. Il team ha appena finito di preparare la moto. Il team ha appena finito di preparare la moto. Il team ha appena finito di preparare la moto. Termina qui anche la seconda sessione di qualifica della moto 2, la classifica che quadrature ci portano sulla griglia di partenza dove ormai tutto è pronto per l'inizio della gara. Il cielo è nuvoloso ma il tempo reggerà per tutta la gara e il circuito dovrebbe rimanere asciutto. La temperatura non giocherà a favore dei consumi. I piloti sono tutti schierati sulla griglia di partenza ancora pochi istanti e il semaforo del twin ring di Moteghi si spegnerà per dare il via alla gara. Prima dentro, cassa martello e andiamo! Il team ha appena finito di preparare la moto. Il team ha appena finito di preparare la moto. Il team ha appena finito di preparare la moto. Il team ha appena finito di preparare la moto. Il team ha appena finito di preparare la moto. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti